minaccia, mette le mani addosso a un giornalista dopo averne insultati pubblicamente altri. Nella stessa piazza questa persona lancia sputi a un cittadino. La medesima persona poi minaccia in un'aula a consigliare dirigenti e dipendenti comunali, insulta, intimidisce i consiglieri comunali con aggressività, costringendo i vigili urbani a cinturarlo e a bloccarlo. Pronuncia ripetutamente in quell'aula frasi e insulti sessisti. Lei dirà che questa persona minaccia l'ordine pubblico, bisogna prevenire e contrastare questi comportamenti. Il problema è che questi gesti da energumeno appartengono a un pubblico ufficiale, il sindaco di Terni. Hanno messo a rischio la coesione sociale in quella città, la convivenza civile e la stessa agibilità democratica in una città di forti tradizioni, democratiche e civili come Terni e l'agibilità dello stesso consiglio comunale, organo eletto dal popolo, i cui membri devono essere garantiti nell'esercizio del mandato. Questo sindaco, che si chiama Stefano Bandecchi, ha violato ogni regola democratica, mettendo in crisi l'organo, costringendo alcuni consiglieri comunali a presentare perfino denunce per minacce e intimidazioni ricevute. Mozioni all'unanimità di censura, di condanna da parte del Consiglio regionale dell'Umbria, all'unanimità. La parlamentare Anna Scani, deputata ed io, siamo stati dal prefetto, abbiamo anche rivolto a lei domande presentando iniziative parlamentari. Ecco, oggi le chiediamo quali iniziative, con le norme, nel rispetto del testo unico antilocale, si possano adottare per ripristinare la normalità democratica. Voglio concludere dicendo che da quando abbiamo presentato l'interrogazione sono accaduti dei fatti nuovi. Per esempio c'è stata una chiusura delle indagini per un'inchiesta molto seria di Guardia di Finanza e Procura di Roma, che aveva provocato perfino il sequestro cautelativo di 22 milioni di euro a Bandecchi per evasione fiscale, per violazione delle norme delle università private. C'è un tema di conflitto di interessi legati al nuovo stadio, è una clinica privata che lui vorrebbe costruire e si è dovuto dimettere da Presidente della Ternana, sta cercando di vendere la società a chissà quali soggetti poco affidabili, ma c'è un grande tema di incompatibilità e di conflitto di interesse. Insomma, davvero è una presenza inquinante della democrazia. Mi dispiace che la destra, che lo ha combattuto in questo anno, abbia nei giorni scorsi stretto un accordo politico per le regionali con questo personaggio e il suo movimento. Non è di questo che voglio ovviamente imputare a lei la cosa, ma a lei le chiediamo risposte sulla garanzia dell'agibilità democratica in quella città e in quel Consiglio comunale. Grazie Senatore. Il Ministro dell'Interno, il Prefetto Piantedosi, risponde all'interrogazione illustrata e a disposizione tre minuti. Grazie Presidente. Io preciso prima di tutto ed immediatamente che rispetto all'alterco avvenuto il 5 settembre scorso nei pezzi del Palazzo Municipale tra il Sindaco di Terni Stefano Badecchi ed un opinionista sportivo locale non risultano ad oggi essere state, appunto al momento, presentate denunce o querele da parte degli interessati. Per quanto attiene ai casi per i quali lo stesso Sindaco è stato oggetto di esposti e querelli alla competente Procura della Repubblica, mi attengo ai reati che possono avere un'incidenza rispetto delle valutazioni che possono essere fatti ai sensi del testo unico per gli antilocali e per reati quali violenza, minacce, oltraggio a un corpo politico, amministrativo o giudiziario, su questi si attendono gli esiti degli accertamenti dell'autorità giudiziaria competente, prima dei quali non è possibile fare ogni altra eventuale e consentita valutazione. Io comunque assicuro che, come lei saprà, ogni situazione concernente la possibile sussistenza di cause ostative all'esercizio del mandato amministrativo da parte di amministratori locali è normalmente e puntualmente oggetto di attenzione da parte del Ministero dell'Interno anche per il tramite delle competenti Prefetture. Grazie. Grazie Ministro. Interviene in replica il Senatore Verini. A disposizione di due minuti, Senatore. Signor Ministro, lei ha dato una risposta. So che anche al Biminale si è stata molta preoccupazione per i comportamenti di questo personaggio. Però che altro deve accadere? Perché quando consiglieri comunali vengono minacciati con violenza, intimiditi, costretti a uscire dall'aula perché non possono rispondere a violenza con la violenza e sono costretti a fare delle denunce. Quando quell'agibilità democratica in un organo eletto dal popolo, quelle persone, quei consiglieri comunali sono eletti dal popolo, hanno il diritto di svolgere democraticamente il proprio mandato.